Guido Bertolasio è un uomo di grande esperienza, l'ho conosciuto in trincea, siamo rimasti amici, è un uomo generoso, si è messo a disposizione di questa nostra straordinaria terra, lo ha fatto gratuitamente, continua a lavorare per tentare di risolvere problemi assai diffusi, in questo caso un coordinamento di un gruppo di lavoro che consenta di rendere la vacanza in Sicilia la più sicura possibile. Tutto quello che si fa per cercare di combattere e contrastare questo virus è stimolante e avvincente, una cosa ovviamente è organizzare ospedali di rianimazione per il trattamento di casi gravissimi, un'altra cosa è organizzare un meccanismo preventivo e informativo per assicurare il maggior numero di turisti in visita in quest'isola straordinaria, quindi è un lavoro più agevole, più articolato, molto più dettagliato sul territorio di quello a cui ci stiamo concentrando.